Milano è la città dove tutti si muovono, nessuno che sta fermo, tutti che si spostano. Si potrebbe quasi dire che la frenesia di tutte le etnie è inversamente proporzionale all'immobilismo dei milanesi. Se tu vuoi venire a cena dei milanesi, loro ti accolgono, però devi essere tu che ti muovi. E così hanno sempre fatto i milanesi nei secoli, con i romani, con i barbari, con gli spagnoli, i francesi, gli austriaci, gli equadoreni, i filippini, i meridionali e con gli influencer. Milano non è mai stata bella come in questo momento. Milano è una città straordinaria e anche bizzarra. A Milano i boschi crescono in verticale. In Piazza Duomo ci sono le palme. Gli architetti a Milano tirano su i grattacieli come se fossero dei cavaturaccioli. Milano è piena di gente. Milano è piena di code. Code in via Monte Napoleone per i saldi. 71.000 persone per vedere Inter Chievo. 65.000 persone per vedere Milan Cracovia. Code fuori dai musei. Code fuori dalla scala. Ma voi lo sapete qual è la coda più lunga che c'è a Milano? Fuori da un ristorante. E quale ristorante? La mensa del povero. 4.500 coperti tutti i giorni. 5 stelle di gradimento sul TripAdvisor. Telefonare prima e prenotare perché la lista d'attesa è abbastanza lunga. Primo, secondo, contorno, frutta, acqua gassata e liscia, caffè, senza l'ammazza caffè, eh? Rapporto qualità-prezzo imbattibile. Gratis! Se proprio devo dire un qualcosa, la pasta delle volte è un po' scotta. Però provate voi a fare la pasta per 4.000 persone. Dai, su! Cioè io la sbaglio quando siamo in tre. Milano, vista dal binocolo, mostra dei dettagli interessantissimi. Mostra una città che si eleva verso l'alto e che rischia di scivolare verso il basso. Ci vuole un attimo, eh? In questi quattro incontri per la strada, in collaborazione con Scarp de Tennis, vi mostreremo l'eccellenza vera di Milano, quella che ha il cuore in mano. Ma no, dai, c'è anche bucata la gomma, sono già in ritardo, sono tutto sudato, tutto sgualcito, sono cusciato e travia, sono cusciato come un barbù. Facciamolo più leggeri, ste bici. Comunque, ho voluto portarvi in questo posto speciale, la casa d'accoglienza Enzo Iannacci, perché mi sembrava il luogo migliore per cominciare i nostri incontri sulla strada. Quel posto qui è a 5 minuti dal centro, eh? Sela, bici, non ti si buca, capito? Se non succede qualcosa, è un luogo veramente speciale, grande. Voi non immaginate quanto sia grande. È grande come San Siro, un posto... Venite, adesso vi faccio vedere delle cose incredibili. Suono, eh? Aspetta un attimo. Aprite! Sono Giacomo! Giacomo! Eravamo d'accordo! Era aperta. E per forza è una casa d'accoglienza, può mica essere chiusa, eh? Estai diretti, adesso ho minimi la scuola, percoPM Eravamo d'accordo! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Tunisia? C'è. Marocco? C'è. San Marino? No, lo manca. Lo manca, ma proprio poi uno sfigato, San Marino arriva. Ma vediamo. Qui c'è tante etnie molto differenti fra di loro, però quello che devo riconoscere è che tra di noi non c'è razzismo. C'è la persona che pensa che magari quella è troppo diversa, non c'è un dialogo, poi quando tu impari a conoscerle non esiste più questo razzismo tanto raccontato qui. Io qua dentro non l'ho ancora visto. Io mi chiamo Antonio, sono due anni che sono ospite qui in via Hortles, questa struttura. e questa è la nostra cameretta che la struttura ci dà. Abbiamo due armadietti in questa stanza, due sedie e poi abbiamo una luce che è diciamo di giorno, perché dopo le nove non si può più tenerla accesa. E abbiamo la luce notturna, come per me che ho passione per leggere i libri, che è soltanto per chi legge, senza dar fastidio al vicino che sta dormendo. I libri vado nelle biblioteche, che c'è anche la biblioteca qua che è molto bella, a me piacciono i gialli, l'orrore, insomma, mi piace questo genere. E vado a cercarle, che il tempo c'è, in varie librerie, da via Tiballi, via Olio, le conosco tutte. Ci sono dormitori che ti tengono sei mesi e non puoi più stare lì, quindi poi vai in strada. Ci sono dormitori che puoi stare tre mesi e lì devi uscire. Quindi fai un giro di dormitori, però qua come struttura si sta un anno. Poi dopo, tramite assistenti sociali, educatori, si stabilisce un percorso formativo di lavoro, di studi e quant'altro, che loro aiutano a stare qui anche di più. Io sono qui da due anni. Per me qui è stato positivo, da un lato, perché piuttosto che dormire in strada, è meglio stare qui. Chi non gli piace dormire nei dormitori e preferisce andare a dormire in strada, o alcuni amici che là all'uomo, loro dormono là, non ne vogliono sapere purtroppo dei dormitori, che per loro non è una bella cosa. Però le amicizie che si sono fermate qua non si sciolgono più. Durante il periodo invernale diventiamo 632 persone che vivono in questa casa. Si stringono tutti. No, beh, le accogliamo anche in modo molto dignitoso, eccetera. E qui che cosa eroghiamo? Eroghiamo i servizi essenziali, che sono l'accoglienza per dormire, la mensa, e abbiamo una particolarità che è l'infermeria. Abbiamo anche degli infermieri. Ed è complessivamente la struttura più antica che c'è in Europa, attualmente in funzione. Più antica d'Europa, detto. Struttura pubblica. Però, grazie. Vuoi lasciare da me la bicicletta? No, grazie, la tengo io, se non si offende, eh. Qua è sicuro, però, se vuole... Sicuro, va bene. Sentite, già che sono qua, in questo posto, che è pieno di servizi, io mi faccio fare anche un bel check-up, eh. Senta, ma dopo misura le pressioni anche delle gomme della bicicletta? Questa casa di accoglienza è stata intitolata a Enzo Iannacci nel 2014, e non a caso. Enzo, per noi milanesi, e non solo, era un amico speciale, un artista, un poeta capace di cantare le storie degli ultimi con ironia, disincanto e senza pietismi. Uè, li ha cantati davvero tutti. E nel pantheon degli eroi stralunati, c'è il barbone in scarp de tennis, c'è chi tira a campare, c'è il palo della banda dell'ortica, e c'è la vincenzina. E tanti altri ancora. Ed Enzo, in questo viaggio, continuerà ad essere una guida per me e per voi. E anche il mensile di cui vi racconteremo le storie, ha un legame con Enzo. Guardate qua. Buongiorno ragazzi, eccoci, Giacomo, ben arrivato. Questa è la redazione di Scaro di Tennis. In cui c'è Mauro. Mauro, piacere Giacomo, finalmente uno più piccolo di me. Direttore, ma cosa diavolo è questa rivista? Scarp de Tennis, un nome di una canzone. Sì, Scarp de Tennis è un progetto editoriale e sociale insieme. Un progetto editoriale, è un giornale, un mensile, che facciamo da più di 20 anni, da 23 anni. 23 anni. Da 23 anni. Ed è il mensile della strada, ovvero non si compra in edicola, non si compra online. Come fate a venderlo? Si compra dei nostri venditori in pettorina rossa. Funziona un po' come in tutti i giornali di strada del mondo. I venditori trattengono una parte del prezzo di copertina, dei 3,50 euro, e con quello riescono a mettere insieme un piccolo reddito. I venditori hanno delle storie di tutti i tipi, diciamo. Bizzarre. Bizzarre, esatto. Storie di disagio, storie anche di riscatto, storie di riacquisizione della propria dignità personale. Oggi Scarpa è cresciuto, siamo in 13 città italiane, da Milano a Napoli, da Firenze a Venezia, da Padova a Torino a Genova. Qui a Milano è il cuore della redazione perché Scarpa e Tennis nasce a Milano. Quante copie vendete? Vendiamo quasi 20.000 copie al mese. Ma però... Noi abbiamo la Caritas alle spalle che ci sostiene. Cerchiamo di fare un mensile fatto bene perché noi dobbiamo scongiurare un rischio, che è quello di io prendo il giornale da una persona che me lo vende, che è un senza dimora, e quindi faccio un gesto di elemosina. Ecco, la persona senza dimora invece sta lavorando e quindi il giornale è uno strumento di lavoro. E le storie di Scarpa e Tennis che adesso portiamo in tv con i nostri incontri sulla strada sono anche le storie positive, no? Anche le storie, come dire, che hanno uno sfondo difficile, che hanno un retroterra amaro, cerchiamo di raccontarle con quel tono un po' di speranza. Perché molto spesso anche quando leggi queste storie qua, tra virgolette, della sfiga, sono le storie che ti fanno piangere, c'è sempre l'aspetto pietistico. Comunque questi qua non me la raccontano giusta, giornale di strada, mi sembra una roba di messa così, fatta da volontari, gente illetterata. Ragazzi, questi qua mi invitò il fior fior di premi, quelli giornalistici più importanti, il premio Biagio Agnes, il premiolino. Poi ne ho spaccato uno, direi, se se ne accorgo una sentenza, no? Questo è il campione. Tra l'altro era di un vetro resinato particolare. Adesso, non so, adesso vado a comprare il supermercato del Vinaville. Era bello anche questo, ha dato critica internazionale. La storia più bella da raccontare in questa foto è stato un incontro incredibile. L'intervista al Papa ovviamente ha fatto il giro del mondo. Siamo finiti sulle pagine di tutti i giornali di strada del mondo, ma anche sulle pagine dei giornali... Il New York Times. Esatto, siamo finiti anche su New York Times. CNN. Siamo finiti anche sulla CNN. E io, con i miei due soci, non ce l'abbiamo mai fatta. E potete venire qui a Scar the Tennis, potete trasformarvi in giornalisti. Un po' come Papperoga, no? Ma Aldo non sa scrivere. Ma mi tocca una curiosità, come è stato tradotto Scar the Tennis in inglese? Ora, il New York Times lo traduce con Tennis Shoes. Tennis Shoes. Le scarpe da tennis. Certo. Poi in Spagna l'hanno tradotto con Zapatiglia de Tennis. Zapatiglia de Tennis. Zapatiglia de Tennis. Chi invece voleva fare sintesi? Sì. Perché l'inglese e l'americanza non avevano sintesi? Snickers. Snickers. E però non ha la stessa storia. Non ha la polverosità del Scar the Tennis. Soprattutto non c'è l'anima di Enzo Yannaci. Non c'è l'anima di Enzo Yannaci. Per quei pochi che non lo sapessero ancora, Scar the Tennis non è solo il titolo di una rivista, ma è il titolo di una canzone famosissima di Enzo Yannaci. Ve la ricordate, no? El portava i Scar the Tennis e el parlava de perlu. Sì, capito? È una canzone di un certo livello. Enzo, famoso. Bravo Enzo. Bravo Enzo. Chi è che potevamo incontrare? Alla casa Enzo Yannaci, se non un altro grande musicista, figlio d'arte, Paulino Yannaci. Ma passavi di qua per caso oppure hai sentito… Per caso, sono venuto in bicicletta, guarda, l'ho anche bucata, però… No, no, perché… No, infatti io, siccome ho visto dei microfoni, ho detto, bene, già che ci sono, senz'altro qualcuno può riprendere qualcosa. Il posto qui è il posto eccezionale. Senti, ma mi togli una curiosità, ma secondo te… So che ti spiace molto questo luogo meraviglioso che poteva essere dedicato a un banchiere, un santo, un sindaco o un medico, come mai l'hanno dedicato proprio ad Enzo? Ma, ecco, secondo me è perché, a parte la zona che è abbastanza nel cuore di quello che il papà ha cantato, no? Periferia milanese. Esatto. Ma perché lui aveva un'attenzione particolare per chi aveva bisogno, almeno sentiva delle problematiche che poi ha messo in canzoni, in poesia, no? E questa attenzione, questa attenzione poi ha generato tutta una parte della sua vita. Lui è diventato, lui prima di essere un artista è stato un medico e quando uno è un medico sente qualche cosa di particolare per l'altro, no? Ha una sensibilità particolare per chi ha bisogno, per chi sta soffrendo e cerca di porvi rimedio. Forse, dopo tutta la carriera che ha fatto, questa cosa è stata riconosciuta. E direi che è stata riconosciuta a tuo padre, a Denzo Iannacci, questa attitudine a intendersi del dolore, non solo fisico, delle malattie, ma anche le sofferenze delle persone, come diciamo noi, gli ultimi, gli sfigati. Eh sì, lui li lumava da lontano, no? Come si dice. Capiva subito se c'era qualcosa che non funzionava a dovere o viceversa. E quindi questa sensibilità, insomma, l'ha portato poi a essere un ragazzo di strada, no? E' ben voluto un po' da tutti. Sono i microfoni? Non può tirarti indietro? Faccio un pezzo, secondo me, giusto un po' per varie situazioni, ma soprattutto perché io glielo ho chiesto al papà, ma secondo te qual è il pezzo che ti rappresenta di più El Portavis Card del Tennis? Ve lo dedico a tutto il cuore. Ladies and gentlemen, Paolino Iannacci in El Portavis Card del Tennis. Che scusate? 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 e per rincorreva già da tempo un bel sogno d'amore portavo i scarti e il tennis e che ha due cittadini era la prima mena via perché lei era un barbo grazie troppo buoni giacomo visto che non vuoi lasciare la bicicletta nel mio ufficio lasciala qui in officina che te la riparano ma è un'officina certificata? guarda i nostri ospiti e anche i cittadini vengono qui e gli riparano le biciclette ho capito però questa qui è una bicicletta di un certo livello carbonio, tungsteno poi quella bici qui ha fatto le salite del Tour de France Alpe d'Huez, Mont Ventoux sul portabiciclette dell'auto fa fatica la macchina andare su insomma allora credo di aver capito oltre a dar da mangiare a dormire e qualche farmaco quando uno ha la febbre o qualcos'altro che cosa fate in questo bel posto? allora qui possibilità alle persone che sono nostri ospiti di fare dei progetti di vita individualizzati insieme al centro sociale ed educatore professionale definiscono appunto un percorso di vita all'interno e poi anche all'esterno inoltre gli ospiti qui possono anche partecipare alle attività della biblioteca abbiamo anche una biblioteca colletta internet in più abbiamo anche qui come puoi vedere un laboratorio che è al centro diurno manufatti vari manufatti dove gli ospiti possono anche questo divano? anche questo divano è stato ricavato da dei bancali cioè noi ricicliamo il legno dei bancali e vengono poi realizzate queste opere il bancale io lo butterei via invece voi invece noi ma che sono scemo io ma no però e allora andiamo allora andiamo dai adesso Giacomo ti presento Giuseppe uno dei nostri ospiti l'ospite creativo che c'era Giuseppe? le opere che hai visto prima le ha realizzate in parte lui e noi le mettiamo in vendita quando facciamo delle attività della casa e quindi i cittadini possono acquistarle un falegname creativo un artista? sì diciamo di sì mi sono scoperto diciamo artista in questa strada impropresa ma cosa sta facendo adesso? possiamo saperlo? avevamo una chitarra che purtroppo era scordata non si riusciva più a mettere nelle note giuste e allora io ho pensato di trasformarla ha destrutturato ha destrutturato a cosa? la cosa diciamoci la verità lo sappiamo tutti la storia degli uomini la fanno gli uomini e in questo caso non è mica diverso ogni settimana vi racconteremo la storia di uno dei venditori di scarta storie che non son mica sempre per palati delicati ecco il primo venditore della storia di questo giornale Maurino da Barletta io dice Mauro nata Barletta l'1944 adesso vivo a Milano e vengo una rivista che si chiama Scarpa da Tenis questo lavoro lo faccio dal 94 settembre del 94 che vengo qui a Milano e subito mi miso a fare questo lavoro perché cercavo lavoro e data l'età che avevo 51 anni nessuno mi voleva prendere a lavorare male che vado che non trovi lavoro vedo se faccio qualche candatina nei bus in metro se mi guadagno qualcosa almeno per mangiare per dormire quello è il mio primo pensiero capito? i ricordi sono ricordi non è facile uscire da una brutta situazione non è facile perché io quando partì da Barletta a 50 anni non eri sicuro di vivere qua allora mi rivolse via Bergamini al SAM e lì mi dissero se lavoro qui vero e proprio non abbiamo se vuoi fare un lavoretto con il giornale c'è un giornale da vendere e ti puoi guadagnare da mangiare e il dormitorio e così sono stato dal dormitorio dal 94 al 99 finché l'assistenza social fece la domanda per farmi avere una casa casa popolare e ci riuscì e lavoriamo lavoriamo bene grazie ai paraci che ci danno una mano perché senza di loro noi non riusciremo mai a guadagnare quelli che guadagniamo facendo la vita il paraco grazie a questo giornale io sono tranquillo e sono felice che lo vendo e che lo faccio questo lavoro perché grazie a questo giornale dalla strada ho una casa e non pensavo di sposarmi e comprare una casa nel paradiso a mia moglie che sarebbe il Brasile e a me il predatterismo ha salvato la vita grazie ragazzi come l'ha riparata bene bravi bella questa officina oggi abbiamo fatto degli incontri veramente straordinari emozionanti toccanti ho incontrato delle realtà delle persone veramente speciali i nostri incontri sulla strada continueranno ci vediamo la prossima puntata per andare all'isola scala a casa i bici eh sì sì ecco l'amore l'ombo il sì capisco cosa ma 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 che bastardi ma mi hanno alzato la sella ma 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 mi hanno alzato la sella ma 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 è veramente bastardi e il portava i scar del tennis e il che aveva due città e bu l'era il prima mena via perché l'era un barco